La Colombia, terra affascinante, ricca di cultura, arte e natura, con una democrazia solida e un'economia in pieno sviluppo. La Colombia non accetta il commercio di droga e i problemi ad esso correlati. Questa magica terra da vivere vuole contrastare con la forza e l'aiuto di tutti il consumo della droga nel mondo, perché la Colombia soffre dell'indifferenza. Aiutiamola a non combattere da sola. La coltivazione della coca ed il commercio di stupefacenti sono la causa di devastazione ambientale, deforestazione, diminuzione della fertilità del suolo e inquinamento idrico. Impiantare un ettaro di piante di coca equivale a distruggere 3-4 ettari di foresta mazzolica, perché quando consumi cocaina non consumi solo te stesso. Quando consumi cocaina, consumi il mondo dove tutti viviamo. E per questo Una vita senza droga è una scelta di consapevolezza e di salvaguardia della vita di tutti noi. Concerto Una vita senza droga, 21 novembre, Auditorium, Roma.